Da quando è cominciato il meeting, il Signore mi riversava continuamente. È come se il Signore anticipasse ciò che venisse annunciato, infatti mi sono stati riversati nel cuore i versetti della parola che poi leggerò e comunque sono già stati dichiarati, citati. E lo Spirito Santo ci chiama ad una profondità. Benedetta ve lo può testimoniare che io non so notare. Benedetta, mia esposa, può dare il testigo di che io non sono così. Che tengo molto miedo della profondità. Lorenzo e Maria non sappiano questo di me. E ho una profonda paura della profondità. Se non tocco, se non ho i piedi sotto i miei, se sono nell'acqua e non sento la terra sotto i miei piedi, io non sono sicuro. Tengo un pavor della profondità. Se io non tocco con i miei piedi, il fondo, tengo un terribile miedo. Lo Spirito Santo però mi ha detto, nel naturale hai paura della profondità. Ma io ti porto in profondità che tu puoi affrontare, delle quali tu non hai paura. Ti porto nelle mie profondità. Il Spirito Santo mi ha detto, sì, io se che tu tienes miedo della profondità, E questa è la condizione in cui il Signore vuole portare la sua chiesa, ognuno di noi, nelle sue profondità. E questa è la condizione in cui Dio vuole portare tutta la sua iglesia e tutti noi in profondità. E questo, cioè, mi ha fatto vedere il Signore perché noi non andiamo in profondità con Lui. E il Signore mi ha fatto vedere perché non andiamo in profondità con Lui. Perché siamo troppo concentrati su noi stessi. Perché siamo troppo concentrati su noi stessi. Sulla nostra anima. N nostra alma. Sui nostri bisogni. Sulle nostre esigenze. N nostri esigenzi. Su tutto ciò che ci manca. In tutto ciò che ci manca. Durante il ritiro degli intercessori eravamo preghiera e il Signore mi ha fatto vedere me. Durante la riunione che avevo del ritiro di tutti gli intercessori, il Signore mi mostrò a me stesso. Come un bambino. Come un nino. E vi erano davanti a questo bambino tre persone. E delante di questo bambino avevano tre persone. Il Dio, la mia anima, la mia alma e il mio spirito. E il Signore mi faceva vedere a secondo di quale davo, cioè a quale davo l'attenzione. E Dio mi mostrava a quale di loro io ponia mia attenzione. Quale sarebbe stata la mia posizione. E quale sarebbe la mia posizione con rispetto a loro. E mi faceva vedere se io do la mia attenzione al mio spirito. E mi hacía vedere se io dava l'attenzione al mio spirito. La mia anima si dirige verso il mio spirito. E mi alma si dirigia hacia mio spirito. Io sono in perfetta comunione con Lui. E io stava in perfetta comunione con Lui. Se la mia anima Si mia anima Si dirige verso la mia anima, verso i miei bisogni. Se la mia anima si concentrava hacia mia anima, osea a mie necessità. Io sono lontano dal Regno dei Cieli. Io stava alejato dal Regno dei Cieli. Perché sono lontano dal mio spirito. Perché sono lontano dal mio spirito. Non sono in comunione con il mio spirito. No è in comunione con il mio spirito. Di conseguenza non sono in comunione con lo spirito santo. E per conseguenza non sono in comunione con il spirito santo. Perché il spirito santo È in comunione con il mio spirito. Il luogo santissimo Il luogo santissimo Donde vive mio spirito Vive ahi junto con lo spirito santo. Mi faceva vedere che sta a me ogni giorno la scelta a quale voce dare ascolto, se al mondo, se alla mia anima o al mio spirito. E quindi cercate prima il Regno dei Cieli, dimorate nel vostro spirito per avere rivelazione dallo Spirito Santo, delle cose a cui piacciono a Lui, di quello che dobbiamo fare noi, mi faceva vedere lo Spirito Santo durante le riunioni come tanti, come volete voi, eh? Tanti strumenti musicali, tante attrezzature di un'officina meccanica, eccetera, eccetera, ma siamo strumenti nelle sue mani. Se io sono un martello, non posso avvitare una vite, se sono un cacciavite, non posso martellare un chiodo. Io non posso fare la funzione del martello, noi dobbiamo essere libri, di essere strumenti nelle sue mani, di essere strumenti nelle sue mani, e sta a noi ogni giorno scegliere, e tocca a noi cada dia decidere in che posizione rimanere, in che posizione rimanere. Allora, vi rilascio questa testimonianza. nel giorno in cui, appunto, stavo lavorando, in un giorno in cui stavo lavorando, io faccio l'elettricista, io sono un elettricista, ero in un cantiere, e io stavo in una obra, ero con la mente concentrata a fare, insomma, a passare fili, a attaccare interruttori, io stavo molto concentrata con la mente, passando cables, e ponendo interruttori, e a un certo punto, nello spirito, e in un determinato momento, con il spirito, ho avvertito proprio la presenza dello Spirito Santo, che mi ha detto, che cosa stai facendo, che stas facendo, ecco, lì, all'improvviso, e in ese momento, di repente, ho avuto, io penso, un sussulto, no? Come nella parola dice, un fremito, e in ese momento, nell'espirito, mi estremessi, e all'improvviso il vuoto, e di repente il vacio, il vuoto, il vacio, proprio, cioè, come, il nulla, avete avuto mai la sensazione del nulla, tu vedi la sensazione, tu vedi la sensazione, di un gran vacio, come del nada, che non c'era nulla, cioè, vi date da fare, da fare, da fare, e poi, che cosa avete in mano? Niente. stava, molto, molto, facendo cose, e di repente, nada. Ecco, lì ho avuto proprio, lo so, è per certo, del mio cuore, ho avuto proprio la consapevolezza, tangibile, che lo Spirito Santo mi voleva avvertire, che non sono chiamato a fare, ciò che il mondo mi chiama a fare. Che io non sto chiamato a serlo, che il mondo mi chiede che io vada. infatti, sempre, nella riunione degli intercessori, c'è stato, c'è stato, durante la preghiera, c'è stato combattimento, infatti una sera, per questo, durante la riunione del retiro degli intercessori, c'è stato una guerra, un combattimento, una nocce, un combattimento personale, una guerra mia personal, nel senso che la mia anima, si metteva, in contrapposizione, al mio spirito, nel senso che la mia alma, si ponia in contra del mio spirito, ma io ho preso una posizione, ho detto, basta, e ho dato, ho lasciato il mio spirito libero, e io ho lasciato il mio spirito libero, infatti è successo, insomma, che era presente, è successo, chi è stato presente, sape molto bene lo che passò lì, cosa è successo, è successo, è successo che lo spirito santo vuole che la sua chiesa, perda il controllo, lo che succede, è che il spirito santo, vuole che la sua chiesa, pierda il controllo, che l'anima, che l'alma, non ascolti più lo spirito religioso, non escuche più il spirito religioso, che disturba, che molesta, ma l'anima di ognuno di noi deve ascoltare il proprio spirito, affinché lo spirito santo ci parli, e affinché noi possiamo compiere tutto ciò che è stato stabilito nella nostra vita, per il regno di Cielo, per il regno di Cielo, allora, prima di Corinti 2, 2, 9, ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto, e che orecchio non ha udito, e che non sono salite in cuore d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano, Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo spirito, perché lo spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio, chi tra gli uomini, infatti, conosce le cose dell'uomo, se non lo spirito dell'uomo che è in lui, così pure nessuno conosce le cose di Dio, se non lo spirito di Dio, ora noi abbiamo ricevuto lo spirito del, ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio, di queste anche parliamo, non con parole insensate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo spirito santo, confrontando cose spirituali con cose spirituali, or l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente, noi siamo nati, il Signore ci ha messo lì, affinché noi possiamo ricevere le sue cose spirituali, e Dio ci ha messo lì, per che possiamo ricevere le cose spirituali, cioè non è facile, è semplice, non è facile, è semplice, se non ci mettiamo in gioco, non lo scopriremo mai, di quanto è semplice, se non ci mettiamo in gioco, non possiamo comprendere quanto è semplice, no, testimoniare, cioè, la cosa incredibile è come lo spirito santo ci vuole parlare, cioè, veramente, la parola quando dice, io sto alla busta, cioè, sì, scusate, io sto alla porta e busso, è veramente rivolta a noi discepoli, che quando ci dice risvegliatevi, quando ci dice, è spiegato, è perché ci siamo addormentati, fratelli, è perché ci siamo addormentati, quando Lorenzo tempo fa testimonio che lo spirito santo, ti riportò i primi anni della tua conversione, che lo, completamente lo revoltiò, in los primeros anni di sua conversione, è perché lo spirito santo ci vuole riportare al primo amore, perché l'amore fa girare tutto, perché è l'amore che fa girare tutti, hermanos e hermanas, l'amore, no così, non so neanche io, sentimentale, no è se l'amore sentimental, è spirituale, è profondo, l'amore spirituale, profondo, è se l'amore spirituale, profondo, qui c'è l'anima, il combattimento con lo spirito, è giustamente, è una battaglia forte, però lo spirito vince, siamo tutti nella solita parca, fratelli e sorelle, non vi preoccupate, Matteo 26, 26, Matteo 26, versicolo 36, allora Gesù andò con loro, in un luogo chiamato Gezzemani, e disse ai discepoli, sedetevi qui, mentre io vado là a pregare, e presi con sé Pietro e i suoi figli, di Zebedeo, cominciò a provare tristezza, e grande angoscia, allora gli disse loro, l'anima mia è profondamente triste, fino alla morte, restate qui, e vegliate con me, e andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra, e pregava dicendo, padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu, poi tornò dai discepoli, e li trovò che dormivano, e disse a Pietro, così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me, vegliate e pregate, per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole, qui lo spirito santo, mi faceva vedere, come Gesù, nella sua anima, in questo momento, ha avuto paura, cioè lui, era triste, non voleva affrontare questo, questo peso grosso per lui, qui il spirito santo, mi mostrava come Gesù, in sua alma, stava triste, che non queria passare, per questa cosa, che stava per passare, ma, rimanendo nello spirito, lui è riuscito, lui è riuscito, lui è riuscito, apportare questo fardello, questo peso per noi, lui è riuscito, questo peso per noi, questo è un esempio che ci dà Gesù, e questo esempio che ci dà Gesù, noi dobbiamo rimanere nello spirito, noi dobbiamo rimanere nello spirito, affinché noi possiamo fare, la volontà del regno del cielo, e la mezzanotte, si sta avvicinandosi, non c'è più tempo, oh sciolapa cassata, oh la casciacatai, che tu sciocco tu, oh che, oh ne, che posizione vuoi prendere nella tua vita, oh sciolapa cassata, oh che te sciol, che darabasciacatai, e che te te che il soco, non c'è più tempo, si, non c'è più tempo, si sta acabando il tempo, durante l'intercessione, durante l'intercessione, ho avuto un visione, tuve una visione, un orologio, con due lancette allineate, verso l'alto, hacia l'alto, cosa pensate che sia mezzogiorno? e ustedes che creen che sia mediodía? no, è mezzanotte, è mezzanotte, è la medianoche, quando si eleva un grito, è per amore che il padre sta rallentando il ritorno dello sposo, è per amore, è per amore nostro, oh sciolara papapa, è per amore che Dio sta retenendo la llegata del novio, perché non vuole che ci troviamo, che ci trovino come le cinque vergini avvedute, cioè disavvedute, perché non vuole che ci troviamo come le cinque doseglie asnesias, il padre vuole che noi siamo pronti, che siamo quelle vergini avvedute, il padre vuole che incontrarnos come le cinque doseglie asnesias, la cinque virgenes sensata, oh l'arabashokete, lo Spirito Santo dice che dobbiamo ritornare al primo amore, oh sciolara papapa, il Spirito Santo dice che tenemos che llegar al primer amore, al primo amore, al primo incontro con Gesù, ognuno di voi si ricorda quel giorno, ognuno di voi si ricorda quel periodo, oh l'arabashokete, in cui ero sveglio perché il Signore dice svegliati o tu che dormi perché il Signore dice despiértate tu che duermi perché il Signore sa Gesù sa che l'uomo perché Gesù sa che l'ombre per sua natura si addormenta se queda dormito e che come i discepoli e che i discepoli nel giardino del Gesemani e che si sono addormentati se quedaron dormiti e che sciocco viene il tempo in cui tu potrai dormire e che ci sono dormiti ma non è ora il tempo di dormire però questo non era il tempo per stare dormendo risvegliati o tu che dormi despiértate tu fai l'azione di svegliarti fai l'azione di svegliarti nel nome di Gesù Cristo cumple l'azione di despertarti nel nome di Gesù non è un uomo che te lo chiede non è un uomo che te lo chiede non è un uomo che te lo chiede è lo Spirito di Dio è lo Spirito di Dio è lo Spirito Santo che ti dice risvegliati fai l'azione di svegliarti che ti dice dispierta ora perché potrebbe essere troppo tardi potresti ritrovarti solo ti potresti svegliare e dire dove sono gli altri oh sì vorrei potrei despertarti solo e per attendere dove stanno sotto come mai sono solo oh sì ho sì ho l'en response estolto hai dormito estolto necio te quedaste dormito necio ho l'en화를 ho l'enversa 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 l'enversa Il Spirito Santo mi fa vedere che dobbiamo ritornare al primo amore, perché è l'amore, è il primo amore che non ci fa dormire. Perché è il primo amore che non ci mantiene dormire, è il primo amore che ci fa restare dormire fino a mezzanotte, in attesa dell'amato. Dobbiamo ritornare alla prima passione, per fare questo, dobbiamo fare una scelta tutti i giorni. Rivolgere la nostra anima verso il nostro spirito. Dobbiamo essere pazzi, perché le cose del regno sono follia per l'uomo naturale, ma per l'uomo spirituale è vita. Le cose del regno dei cieli sono follia per l'uomo naturale. Perdete il controllo di voi stessi, dice lo Spirito Santo. Vivrete. Non ci stessi, dice lo Spirito Santo. Allineate la vostra anima con il vostro spirito. E non con le cose del mondo. Che la vostra anima sia allineata con il vostro spirito. Sia rivolto verso il luogo santissimo. Non ricursiamo con la religiosità, con la nostra religiosità, il velo che Gesù Cristo ha spaccato quel giorno sulla croce per noi. Oh, shoi laramai soko toto toto toko so. Oh, laramai soo in amai soko toto toto toto.